È il giorno delle autopsie sui corpi del professor Carlo Vicentini che ha freddato la famiglia, mogli e figli, con una pistola togliendosi poi la vita. Questa sera una veglia di preghiera per loro a tempera in attesa dei funerali. Si stanno facendo in queste ore anche degli accertamenti ma si d'ora non sarebbero emerse in regolarità sui permessi che il noto medico aveva per possedere in casa ben 13 armi, 11 fucili e 2 pistole, una utilizzata per compiere la strage. Vicentini infatti era un esperto cacciatore. Alcuni elementi fanno pensare sempre più alla premeditazione. Pare che le condizioni del figlio Massimo, sempre più grave, gli avessero provocato negli ultimi mesi uno stato grave di depressione, aggravato dal fatto della pensione che forse lo aveva fatto piombare in una quotidianità difficile da accettare. Una spiegazione che in molti paventano. La polizia sta scandaliando anche il biglietto che ha lasciato, difficile da decifrare però perché pieno di frasi farneticanti. Ovviamente le armi sono sotto sequestro come la villetta di Vicentini, teatro della strage, scoperta solo venerdì pomeriggio, anche se una prima ricognizione ha confermato che le morti risalirebbero ad almeno 36 ore prima. L'incarico delle autopsie di oggi è stato affidato dal PM Guido Cocco a un medico del Gemelli di Roma, il dottor Fabio De Giorgi. In nulla osta per i funerali arriverà in giornata. Sulla tesi dell'omicidio e suicidio non ci sono dubbi ma è un atto dovuto procedere anche se si andrà all'archiviazione di certo. Gli inquirenti hanno sentito i testimoni, per prima la nipote e un amico del medico e primi ad entrare nella villetta. Chi è rimasto di questa sfortunata famiglia è un pastore tedesco che è un amico inseparabile di Massimo e di tutta la famiglia che era rimasto fuori dal terrazzo ad aspettare i padroni che non ha più visto. Il suo addestratore Iva Luisi lo adotterà. Rimangono molti interrogativi aperti sulla vicenda, di certo un fatto di cronaca grave che ha sconvolto la comunità. Vicentini era stanco, solitario negli ultimi tempi e a chi voleva prenotare delle visite spesso dava il nome di altri professionisti. Cosa si è scattato nella sua mente nessuno può dirlo, certo è che i parenti non si danno pace.